Tuo padre sa che ha usato la magia oscura e questo è il problema. Non preoccuparti, non gli ho detto che mi hai aiutata. Grazie. E Landon e Raffaele sono andati via insieme. Landon mi ha detto che non sa perché ha rubato il pugnale, ma poi ha mentito sul fatto di averlo, così non so più a cosa credere. Poi mi ha scritto questa lettera, che era... non so, dolce. Lizzie è... sensibile. Mia mamma sta andando in queste lunghe missioni di reclutamento e lei è più irascibile. Le manca davvero. Conosco la sensazione. Ricordo quando tua mamma passava alla scuola. dicevamo tutti che era bellissima. Lo era.